Ciao a tutti amici, benvenuti sul canale di Nina. Eccoci con un po' stagione e con qualche gattino da adattare. E oggi cominciamo con un file scova. Cominciamo la piccolina oggi, ok? Buona visione a tutti amici e passiamo la notte adattata. Ecco qua, questo file scova numero 43 della storia 55. Vediamo un po' le carte sul tavolo, ci dicono. Ok. Allora, quanto è? 1, 2, 3, 5. Abbiamo un 5. 5, dobbiamo trovare un 5, vediamo. Primo gioco, incominciamo con un 8. Abbiamo 4, 3, 1, 10 e 2. Continuiamo con un 8. Questo è un 6, 7, 10, 7 e 9. Cominciamo. Il letto numero 43, il file scova non è vincente. Passiamo a 10 perro. Numero 16 della storia 9. Eccolo qua. Vediamo un po' se vede bene. Mi sembra un po' scuro ma... ok. Allora, 14, 28, 20 e 21. Primo numero 46. Abbiamo 26, 23, 25 e 42. Continuiamo con 36, un 39, 41, 17 e 30. Noi abbiamo il 20. Il desiderio non è vincente, amici. Ok. Continuiamo con il punto del telefono per la memoria piena. Noi abbiamo il numero 40. Ok. Allora, abbiamo il punto del telefono per la memoria piena. Stavamo al numero 68, che è il primo numero. Noi ce l'abbiamo. Continuiamo con 48. Ma... Anche i numeri qui non ci sono. 55. Poi abbiamo 18. Eccolo. 66. 6, 6, 6, 2 volte 6. Abbiamo 70. Eccolo. 30. 30. Non c'è. Abbiamo 21. Ok. Continuiamo con 20. 15. 15. 15. 15. Non c'è. 79. Che è 78. 15. Eccolo. 39. Eccolo. 29. Non c'è. 71. Ultimo numero 52. E ci ha lasciato... con 64. Con 64. Che non c'è. E non vogliamo riportunati ultimamente proprio. Sono veramente fortunati. Con... Non lo so se ho dimenticato qualcosa. Forse. Ma il 64 non lo vedo io. Ma... li controllerò. Comunque. Con l'applicazione vorrò... Forse manca un numero. Ma comunque non è bucente. Vabbè. Comunque se in casa ve lo farò sapere. Numero 40 per il momento sembra perdente. 24. Adesso passiamo all'el dorato. Numero 48 e 16. 24 e 16. Voi abbiamo la sabbia e la collana. Ok. Cominciamo con 17 e il pentolone. Qua abbiamo anello e diamante. 22. 21. Questa è il... Che cos'è? La cartina. E 15. Per 16. Qua abbiamo le palme. Che non ci sono. 12. 13. E quella. Niente da fare. Biglietto. Numero 48. Il dorato. Non è vincente amici. Tutti per dentro questo momento. l'ultimo bigliettino. E' una split case. Split case. Eh... Questo è il numero... 12. Grazie a 45. Ok. Allora. 41. 33. 46. 27. E 21. 21. Aria Go. Incominciamo con Aria Go. Che ci dice... Dove sono i numeri? 36. Ora abbiamo 31. Che è il 21. 20. 13. E 27. Sì. 23 li abbiamo presi amici. Per due. Abbiamo 19. 40. 23. 12. E 16. Niente da fare. Per 5. Abbiamo 32. Abbiamo 44. 24. E 22. Niente da fare. Un numero l'abbiamo preso. Il 27. Che ci dice 5 euro. E questo è il nostro... Unico recupero di oggi. Ok. Comunque... non è finito a zero. E su 15 euro di spesa. Carissimi amici. Abbiamo... preso 5 euro. Allora. Un biglietto da 5. Uno... Due... Due da... Tre. E due da due. Unico recupero. Unico recupero. Stavo con lo street. 5 euro. Carissimi. E questo è tutto. Se non mi so perso niente. Va bene... Qualcunque carissimi. Cos'è andata... Buongiorno a tutti, un bacio e un abbraccio alla linea, ciao al prossimo video!